perché credo che sia ovviamente il numero di differenza tra i 427 più gli 8 sono 435 e l'eventuale tra virgolette lista d'imbarco che prevedeva 478 ma già qui ci sono dei numeri ballerini perché sono 478 o 458 sono tutti effettivamente saliti a bordo c'è stato poi anche uno scalo in un porto e quindi magari qualcuno è potuto scendere cioè noi da qui non possiamo se non mettere a disposizione delle autorità greche tutta la nostra conoscenza e il lavoro che abbiamo fatto e poi sentire dall'autorità greche eventualmente se questo numero coincide noi per questo ci auguriamo che non sia ovviamente quello il numero dei dispersi poi dal mio punto di vista ma credo dal punto di vista del governo nessuna polemica con nessuno qui abbiamo fatto il possibile l'impossibile c'è stato solo c'è stato solo credo che l'ammiraglio si riferisse a questo quando io ho detto dalle 6 e mezza del mattino fino alle 14 e 50 c'è stato solo poi un passaggio anche chiesto dal governo greco e che ci ha continuato a ringraziare come il governo turco come tutte le telefonate che abbiamo ricevuto ha ringraziato il governo italiano e in particolare non il governo il ministro insomma ma coloro che sono ovviamente intervenuti quindi